Riattivare i cinema chiusi o dismessi, realizzare nuove sale o trasformare quelle esistenti per aumentarne il numero degli schermi, ristrutturare e adeguare gli impianti tecnologici, le apparecchiature e gli arredi. A questo serviranno 5 milioni di euro stanziati dal governo musumeci per contributi a fondo perduto destinati ai cinema dell'isola. Potranno beneficiarne il pubblico e il privato, le micro e piccole imprese, gli enti locali territoriali e i soggetti no profit. Ogni esercente potrà presentare un solo progetto. I contributi variano da 50.000 a 100.000 euro e coprono dal 70% alla totalità dell'investimento in base alla tipologia dell'ente beneficiario. Sarà il Dipartimento regionale dei beni culturali a provvedere a redigere un apposito bando da pubblicare nei prossimi giorni. La Sicilia, evidenzia il presidente della regione, ha bisogno di spazi culturali accessibili a norma di legge, luoghi di incontro e di confronto formativi e di aggregazione sociale. E la regione deve sostenere finanziariamente proprietari e gestori. Ecco perché, dopo aver pensato alle sale teatrali, stiamo pensando alle sale cinematografiche. Quando in un paese chiude un cinema è un pezzo della nostra stessa vita che va via. Abbiamo il dovere di arrestare questo triste fenomeno e in questa direzione va la nostra iniziativa. In Sicilia si contano 230 cinema, tra i quali numerosi sono multisala.